innanzitutto grazie per essere venute qui ragazze vi starete chiedendo di che si tratti mi auguro che sia per una buona ragione stavo facendo una maschera esfoliante maschera esfoliante allora come sapete ho imparato che devo essere molto più prudente in tema di animali pericolosi lo sappiamo oh zuccherino ti stai comportando benissimo nonostante e ci risiamo daino signore dite ciao a graf ciao graf che cosa sarebbe a dire il vero non lo so non ho mai visto niente di simile prima di che cosa si nutre non di fate beh è un sollievo per cui lo porterò dalla regina per mostrarle che è innocuo poi le dirò che ha distrutto il prato dei girasoli ah beh che io ho distrutto ecco sapete forse siamo stati entrati voi avete distrutto il prato dei girasoli è stato lui si è trattato di un incidente vabbè e come chiami quella cosa la ecco al momento non lo so ma ci sto lavorando colgo molti non lo so in questa conversazione l'incertezza mi mette a disagio avanti ragazze ma vi ho mai messo in pericolo prima d'ora ancora non sto seduta dritta il falco sì il punto è che voglio agire responsabilmente questa volta e cioè come ho promesso quindi suppongo che tu abbia già un piano in mente operazione graffa go go